La bella storia d'amore con la sua Natalia La ballerina conosciuta durante l'esperienza a Ballando con le stelle Era il 2006 e da allora la coppia non si è più lasciata.Oggi Natalia e Massimiliano stanno ancora insieme e hanno avuto due figlie, Sofia Nicole, nata nel 2011, e Vittoria Sidney arrivata nel 2013 Con Natalia un colpo di fulmine Ognuno la vede come vuole ha rivelato il nuotatore parlando dell'amore per Natalia quando ci siamo conosciuti e Ballando con le stelle eravamo molto diversi Lei mi prendeva in giro perché ero stacanovista, ma ci siamo trovati ed è normale trovare dei punti in comune in una relazione Punto l'ultimo ballo insieme Ne lo ricordo molto bene, è stata una baciata, ma il balletto che più ci ha emozionato è stato il waltzier Ha aggiunto Massimiliano Rosolino prima di rivelare che durante il talent Millie Carlucci è stata la prima ad accorgersene della nostra storia Massimiliano e Natalia sono legati da tanti anni, ma per ora il matrimonio non sembra rientrare nei loro progetti Rosolino, però, ha svelato sempre a storie italiane che potrebbe sposarsi per le sue figlie Non ci siamo detti ti amo ha confessato, è stata più una questione di sguardi, di voler stare insieme Non le ho detto mai ti amo Il mio messaggio d'amore sono state le nostre bambine, non bisogna pesare parole E tornando sul matrimonio, Massimiliano Rosolino ha poi aggiunto Comunque ce lo diremo appena ci sposeremo, assolutamente si è proseguito l'ex campione di muoto nello studio di Eleonora Daniele Due cose potrebbero convincermi a sposarmi, il viaggio di nozze e forse avere le cucciole come da migelle e ricordarsi questo momento Dunque non è da escludere che a breve Massimiliano e Natalia potrebbero convolare a nozze Non è da escludere che a noi